E la madonna, che sta succedendo? Una bella rivolta? Allora, amici, bentornati in un nuovo episodio di Assassin's Creed Unity Tanto ce la fughiamo un attimo da qua che c'è troppo casino così riusciamo a parlare un secondo Nello scorso episodio abbiamo trovato Pierre Bellec Che ci ha fatto parlare con il mentore degli assassini francesi Poi abbiamo affrontato noi stessi le prove, insomma la cerimonia per diventare assassini pure noi Infatti vedete Arnaud vestito in modo diverso Se non avete visto i primi episodi ragazzi vi li lascio in descrizione O vi lascio comunque la playlist, basta che la schiacciate e trovate tutti gli episodi Nei commenti, siete stati anche molto molto bravi e continuate così a commentare i video che usciranno Abbiamo deciso di potenziare Arnaud Dato che abbiamo visto le sue abilità e tutto quanto cose di cui non mi ricordo assolutamente un cazzo di niente, sono sincero Abbiamo deciso insieme di potenziarlo rendendolo comunque abbastanza equilibrato Tra lo stealth, la potenza, la corazza Quindi diciamo che vado un pochino anche a mio gusto allora Comunque molto molto bravi Squartato, dobbiamo iniziare l'episodio con un bel omicidio Beh, boom Ma io posso rubare? Ah sì che si può, allora Rubiamo le ficche Dammi delle medicine bro Tappo Perché aveva un tappo in tasca questo? Io direi di andare a fare la missione principale Che è qui dentro Quindi direi di non perdere altro tempo e di far menare le mani ad Arnaud C'è una campana d'allarme in questa zona Ah beh, perché ovviamente in tutti i giochi di Assassin's Creed il confine dove non si può andare è rosso Su questo gioco è blu, va bene Devo ricordarmi questa cosa assolutamente Pierre, sei tu per caso? Sì è lui Mi sa che questa è una missione importante Difficoltà 2 Eh vabbè, allora Dopo quasi un anno di addestramento Arnaud è pronto a diventare un vero assassino Deve solo completare l'ultimo esercizio Io direi che si va Qual è la missione? La missione È portare il culo in posizione Oh stai calmo eh bro Hai i tuoi ordini Nientar no, continua a darci dell'idiota questo scemo E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo uccidere? Io direi di sì Let's go Allora Uccidere guarda e sobbata l'allarme Tre prede uccise Uccisi dai ripari Ma io posso fischiare? Non si può fischiare? Questo è un problema perché Perché non si può fischiare? Che cazzata è? Niente non si ripara, non si ripara, non si ripara Madonna Beh questa è un uccisione da un riparo Siamo stati furbi e intelligenti eh Allora se quello lì va lì dietro Ok No, non va lì dietro Si ferma ai cannoni Ti piacciono i cannoni bro? Cannoni d'erba? No, lui va lì e si fa i cazzi suoi Va bene Allora se io faccio così invece Mi metto qua A parte c'è uno spazzino che si fa i cazzacci suoi Immagino Perché non posso fischiare? Madonna Vostra madre Niente non si ripara ragazzi Io premo X Riparati X È incredibile Ma vai a fare in c***o L'Arnova là Ragazzi posso dire una cosa? Mi sono leggermente rotto il tasto Oddio Questo non mi ha visto Com'è possibile che sono qui? Non posso ucciderlo Ci siamo Posso dire che c'è un po' di delay Che mi dà fastidio Mi sa che il gioco crescerà Vabbè Questo mi ha rotti i coglioni E lo uccido così Non me ne frega niente Dei ripari Uccidiamo e basta Frutto marcio Ma perché ce l'avevi in tasca? Aveva una medicina però Questa Molto molto importante Ok Abbiamo fatto tutto Cadaveri non ci sono già più Ovviamente Il signor Guillaume de Roussel Ha accettato la nostra offerta Del 40% È proprio disperato Quanto al prete? Verrà presto La tua sicurezza è contagiosa Si per I ragazzi hanno il carro pronto Ecco i dettagli Che vada tutto liscio Ma certo Che vada tutto liscio Imbecille Quando ma Ah godo Aiuto Omicidio Aiuto Va bene Zacc La prossima volta fallo prima che strilli Perché lasciamo che quel Siver sopravviva Ha ucciso il signor della SER Pazienta Siver non è il bersaglio Ok Ma Ragazzi il problema è che Oh No aspetta Ci hanno giocato bro Ci hanno giocato Lancia una bomba fumogena Non puoi Oggi mi sa che devo correre vero Ok forse devo scappare Intanto uno l'ha ammazzato Sì dai va là Ma pensa a te Sì Sparate la vostra nonna Oh no Quanta gente c'era Comunque Il tizio l'ha già sparlato dietro All'istante Sono andati via E la guardia che abbiamo appena ucciso Ha detto Oh siamo in pericolo Aiuto Ed erano ancora lì palesemente Eh? Ah ho sbagliato Madonna Le acrobazie di Arnaud Dai corri vecchio Madò Segui Bellek E niente Devo sprecare tutte le bombe Vabbè guarda Guarda cos'è successo Vabbè dai Andate a fare in c***o Dai L'ho buttata a Bellek Vai zio No guarda si è buggato tutto Non ci credo Si è buggato tutto Dove ucciderli per forza Ho capito Avete capito perché Nel primo episodio Ho detto che questo gioco La gente l'ha odiato Proprio per questi motivi qua Eh Boh Bellek Li ho coltellati alla gola Possiamo andare? Ah lui se n'è andato Giustamente Non rompetemi i coglioni Era qua un secondo fa Ed è sparito Porco Quanta gente E se andiamo sopra? Io direi che Dato che siamo dei mostri del parkour Tanto vale fare parkour Esatto Basta Fender Perché la gente mi offende sempre? Bellek Sei veramente un povero idiota Ciao cane Anche noi Non attirare l'attenzione Non li fermiamo Fermarli O evitarli Cosa cambia? Ci sono sempre altri fanatici Non puoi salvare tutti idiota Oh bellek Mi ha rotto il cazzo Eccolo Questo mi rompe le palle Sicuro Ok Oh Sono scappati Non so perché Ma ok Ah non è stato a sparare a caso Ma noi siamo dei gatti Ma scusami Ma noi dobbiamo proteggere la gente Per quale cazzo di motivo L'abbiamo fatti uccidere Non credo bellek Madonna le acrobazie Vecchio Guarda che ti sto dietro Posso correre fino a sfinire L'hai già detto Non volevo farti venire un colpo Le guardie in blu Attacco gli estremisti in rosso Con quei vestiti astumi Il tuo stupido Il blood contro i creeps I creeps La gang americana Non posso crederci Non vediamo si ver da un anno E lo lascia andare così Solo perché il suo nome Non è nella lista Vabbè No non è il momento Troppe variabili E anche troppi rischi E se ci sfugge ancora Sarà Notre Dame domani Se segue il programma che abbiamo Ok No dovevo finire che parlasse Vabbè Mi dispiace ragazzi Ho fatto l'errore Dai finché camminiamo Camminiamo Potete continuare il discorso no Arnaud Ciao bro Arnaud E ora che succederà Sembra che non ti piaccia molto E' un politico Crede di essere il grande pacificatore Pensa di porre fine alla guerra Fra assassini e templari Di portare a compimento la rivoluzione E di appacificare persino I cani e i gatti Questa è una leggenda comunque ragazzi Dei cani e i gatti I suoi sono solo castelli in aria I templari non sono così deboli Dai tempi del rogo di Jacques de Molay E noi perdiamo tempo dietro A dei briganti qualsiasi Brigante Solo perché Mirabeau ci tiene alla sua fama Ok abbiamo finito Il signor della serca Anato Niente ragazzi non ce la facciamo I dovanieri francesi possono riposarsi Arpinon è morto Maltrattare i nobili imprigionati non è un compito per lui Che hanno in mente i templari? Se non avessimo passato un anno a dormire per colpa della tua tregua Ora lo sapremo Ha ragione onore La tregua era con il gran maestro della serra Quell'uomo è morto da due anni Chi lo comanda ora non se ne starà certo con le mani in mano Potevamo saperne di più se non lasciavamo andare Siver Siver era lì So che è tua intenzione mantenere la pace Ma assicurare chi ha ucciso della serra la giustizia conterà pur qualcosa Sì certo Ma non confondere la tua vendetta personale con una strategia Se vuole uccidere templari Che uccida templari Gli ho insegnato tutto È pronto Siamo pronti Molto bene Assassino La tua missione è andare a Notre Dame Dove troverai l'agente templare Charles Gabriel Siver Scoprirai i suoi segreti E quando l'avrai fatto Gli darai la pace eterna Secondo la nostra regola Madonna Mi stava fissando in modo ambiguo Ok in pratica Ora abbiamo la nostra prima missione da fare Da assassino professionista Ok Signorina salve Come state? Tutto bene? Ok allora lui dovrebbe essere una missione in coop Ma non la possiamo fare Perché ormai no E non ce ne frega anche nulla Allora ragazzuoli Io direi che come episodio è anche abbastanza corto Quindi farei sicuramente qualcos'altro Allora intanto andrei a vedere Cosa sono i due punti che ci ha dato Come ricompensa Non so Vabbè questo non ce ne frega niente Due Ah sono due punti abilità E si gode Colpo violento Ok questo me lo ricordo a distanza Cos'è che avevamo poi? No questo costa 10 Questo costa 2 Borsa di moneta non ce ne frega nulla Bomba stordente Eh questo non sarebbe male Furtività Eh forse sarebbe No l'abbiamo già fatta la furtività Abilità Abilità nel scassinare Porte e sigilli Io direi sì Questo Siamo dei ladri Scusa ma noi qua la pistola ce l'avevamo no? Ah equipaggio non l'avevo presa Mannaggia il cazzo Vabbè Ora abbiamo anche la pistola Io direi che potremmo iniziare a prendere qualcosa da vestire no? La testa abbiamo detto che si può Cioè che la usiamo Usiamo il cappuccio per essere più furtivi Quindi direi di mettere qualcosa con la furtività no? Questo da un po' più di furtività Un po' più di salute Ma questo è furtivo proprio Mille fiche Madonna questo ne costa 900 Guarda quanta furtività Io direi sì Acquista questo subito È un po' più carino di quello che avevamo Sembravamo una testa da ovo Eh questo aspettiamo un attimo Magari il prossimo equipaggiamento che compriamo Sarà per il petto e la pancia Vediamo Beh ora sembra più un cappuccio d'assassino dai Non male mi piace Aspettate qui c'è un Oddio ma questo qua non era casa nostra C'è casa nostra prima di Prima che uccidessero il signor della ser Vabbè qui c'è un Cos'è questa roba? Ah ok questo è il DLC Non se ne frega nulla per adesso Cos'è che ci dà questo? Un abito forse Qualcosa di leggendario Abito D'assassino di Edward Ecco ora abbiamo sbloccato Gli abiti di Edward Per chi non sapesse chi è Edward Kenway È il protagonista di Assassin's Creed 4 Black Flag Se vi va Trovate la playlist nel mio canale Anche di quello Gioco completo Fico GG Se vi va di dare un'occhiata potete farlo Ovviamente ragazzi abbiamo perso un pochino di tempo Io direi che noi ci possiamo salutare così Abbiamo fatto un po' di casino Un episodio un pochino più Un pochino più ristretto Anche perché non ho così tanto tempo oggi Comunque nei commenti ragazzi scrivetemi Se volete dei video un pochino più lunghi Che ne so Tipo dalla mezz'ora in su Io li faccio volentieri Magari facciamo Più di una missione episodio Come volete voi Basta che me lo scrivete nei commenti Ovviamente è inutile dirvi Che se non siete iscritti Forse è meglio che lo facciate Una sorpresa Su madre Madonna la furtività di Arnò Li sgozziamo tutti Scappate scappate Vi ho salvati Se ancora non siete iscritti al canale Ragazzi iscrivetevi E trevate la campanella Lasciate anche un bel like Mi raccomando Come vi ho già detto Nelle varie live E altre volte Che mi sono preso un pochino Una pausa Un pochino di giorni di pausa Dalle live Perché Perché sì Magari farò un video Dove ne parlo Meglio Però insomma Sappiate che Torneranno Presto spero Forse già domani Non lo so Adesso vediamo come mi sento io Nel farle Detto questo Ti do appuntamento Domani o dopo domani Con un altro video Sempre le due Il bastardo sta scappando Signora mi scusi Sto parlando con i miei iscritti Vabbè Dette questo ragazzoni Passate un buon pomeriggio Bella ragazzi